Pier Giorgio Odifreddi, matematico, scrittore, autore, pure un po' filosofo ma in un modo molto particolare e quest'oggi è qui con noi, purtroppo non fisicamente, vedete non c'è fisicamente ma è qui con noi spiritualmente, virtualmente per cogitare come si deve e quindi direi di non perdere ulteriore tempo e partire con questa cogitata subito dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Duferra e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Carissimo Pier Giorgio, ben trovato qui su Daily Cogito, come stai? Come te lo stai passando questo momento storico particolare? Questo qui in particolare con te non lo posso dire, naturalmente in pubblico, ma bene direi, bene. Anche se questo tuo, questo si vede che tu sei un filosofo perché hai fatto il countdown, hai fatto 5, 4, 3, 2, 1 e non hai detto 0. Non ho detto 0, non lo dico mai 0. Noi invece, appunto, mentre invece un matematico di lì si comincia e quindi anche di lì si finisce. Ma a parte questo, quello che ci divide è questo 0 quindi. È vero, è vero. In altre parole siamo uguali. Siamo uguali, mi viene in mente quella citazione di Borges che dice i nostri nulla differiscono di poco ed è effettivamente così. Partiamo tutti da lì, partiamo tutti da lì, da uno 0 e poi vediamo dove arriviamo. Ci sono alcuni che anellano all'infinito e tu ci hai scritto l'ultimo libro sull'infinito. Sì, altri che non si muovono dallo 0. Dici che si può scavare sotto lo 0? Certo, si può poi andare dall'altra parte, no? Meno 1, meno 2 e così via. E questo matematicamente ci sta, ma umanamente tu cosa ne dici? Si può fare effettivamente? Oh, anche umanamente. C'è gente che è molto sotto lo 0. Soprattutto in questi tempi, oggi ho partecipato da, in cui si parlava del terrapiattismo. Io credevo che fosse appunto il primo d'aprile, mentre invece no. Sembra che ci sia una buona percentuale di gente che crede a queste scemenze e quelli sono sotto 0 proprio. E naturalmente sotto 0 si può arrivare a meno infinito, quindi c'è un sacco di spazio per migliorare, diciamo così, dal loro punto di vista. Ti racconto una cosa che ti divertirà sul terrapiattismo. Io, qualche anno fa, quando ho scritto il mio libro L'elogio dell'idiozia, ho passato un periodo nei gruppi Facebook di terrapiattisti per vedere cosa si diceva, quali erano le argomentazioni. Ed è stato uno studio interessante. La cosa che mi ha più divertito è stata, a un certo punto, una ragazza che in un post in cui si parlava di che cos'è la gravità diceva che in realtà la gravità è un magnete sotto a questo disco. E un'altra tizia, aspetta perché non è finita, un'altra tizia diceva, ecco perché quando vado a donare il sangue esco e mi sento leggera, perché aveva meno ferro dentro e quindi il magnete la attirava di meno per terra. È incredibile, è incredibile. Da questo punto... Non così incredibile, perché in realtà una delle prime teorie della gravitazione di un signore che si chiamava Gilbert era appunto basata su una nozione appunto legata al magnetismo. Loro pensavano che la gravità fosse una forza simile a quella magnetica. Poi in realtà poi non è così. In realtà poi oggi sappiamo che il magnetismo è la stessa cosa che l'elettricità, elettromagnetismo. E sia l'elettromagnetismo, l'elettricità, la forza elettrica che la forza gravitazionale sono tutte e due inversamente proporzionali è quadrato da distanza. Quindi la formula è la stessa. La gravità c'è solo attrazione, mentre invece nell'elettricità c'è sia attrazione che repulsione. Quindi tutto sommato... Non c'era un dato. Ma intanto non credo che ci siano terrapiattisti che ci seguono, quindi non ci dobbiamo preoccupare di fornire loro degli arotesi. Non credo, non credo. Nel caso io voglio esprimere la mia solidarietà e anche il mio affetto, perché in realtà io trovo che... E quindi ti pongo la prima riflessione su cui potremmo ricamarci un po' di cose. Sai, allora tu dicevi prima, c'è una buona porzione di popolazione terrapiattista. In realtà sono comunque una piccolissima parte, a volte molto rumorosa. Sono persone che sanno farsi sentire. E poi c'è una larga parte che prendendo in giro queste persone in realtà si fa sentire ancora di più. Però mi sembra che molto spesso, soprattutto in Italia, chi si occupa di scienza prenda questi esempi, che sono degli estremi, con l'idea di, come dire, denigrare quello che è il popolo, diciamo così. Quindi le persone che dovrebbero invece entrare in contatto con una buona divulgazione. L'ho sempre trovata una bella scusa, perché divulgare bene il sapere scientifico è difficile e ci sono le battaglie importanti da portare. Però a volte è più semplice prendere delle battaglie palesemente ridicole come il terrapiattismo e denunciarle, perché questo un po' ti esenta da quelle che poi sono, diciamo così, la divulgazione e l'alfabetizzazione scientifica più importanti su temi anche molto, molto concreti. Non so come la vedi tu questa cosa. Ma dunque, un paio di osservazioni. Non sono sicuro che siano così pochi in realtà. Oggi le cifre che sentivo appunto in quella trasmissione erano attorno al 30%. Io poi non so se sia possibile. Questi hanno fatto sentire uno di questi che diceva che in fondo il motivo per cui credono, credevano o credono che la terra sia piatta è perché così dice la Bibbia. Non sono ben sicuro dove lo dica, ma comunque no. L'idea loro è continuare a pensare e a dire le cose che dice questo fondamentalismo, diciamo così, religioso. Negli Stati Uniti si sa che porta la maggioranza della popolazione maggioranza a credere che effettivamente il mondo sia nato circa 7.000 anni fa, come dice la Bibbia. Ora, a noi può sembrare ridibile o assurda che metà della popolazione creda a queste stupidagini, ma io non credo che sia un problema degli Stati Uniti. Credo che se facessimo una serie indagine in Italia sarebbe esattamente la stessa cosa, perché la maggior parte delle persone non ha idea come si fa. Questo dal punto di vista, diciamo così, delle cifre. Per quanto riguarda la divulgazione è una cosa estremamente complicata, naturalmente, anche perché la scienza di per sé è complicata. È facile fare divulgazione sui principi basilari, diciamo. Infatti, poi, dei libri di divulgazione quello fa, cioè insegnare, per dire, il teorema di Pitagora, oppure anche quando si va un po' più oltre, per esempio nella fisica, la meccanica quantistica, la relatività. Però non è che puoi andare molto lontano, perché ovviamente la scienza si fa in maniera tecnica, anche soltanto per capire le nozioni e soprattutto le formule, senza le quali non si va molto lontano, e si fa appunto soltanto perifrasi o metafore, che non sono la scienza. E poi, se posso dire, c'è un ostacolo che è la statistica. Cioè, se l'intelligenza è distribuita in maniera, diciamo, regolare, come si può immaginare, che ci siano pochissime persone completamente deficienti, pochissime persone geniali, proprio come la si usa oggi in maniera molto rilassata, e poi ci sia una distribuzione, come la cosiddetta curva gaussiana, la curva campana, beh, questo significa che metà della popolazione ha un'intelligenza inferiore alla media. E questo vuol dire, anche metà, metà ce l'ha anche superiore ovviamente, l'altra metà, però metà della popolazione è persa in partenza, uno non può sperare di riuscire a raggiungerla, poi come se non bastasse, a parte che queste quindi sono, diciamo così, le restrizioni logiche, ma poi ci sono anche quelle sociologiche, nel senso che la maggior parte della gente ormai segue semplicemente social media, non legge, non dico libri, ma nemmeno i giornali, non sono sicuro che non leggere i giornali, se è meglio non leggere niente, oppure leggere i giornali. E anche sui libri non sono sicuro, perché forse ne abbiamo già parlato l'altra volta, ma quando si dice due terzi della popolazione italiana non legge nemmeno un libro all'anno, e io sempre dico, sì, va bene, però quel teggi i libri che vanno in classifica, e se uno va a vedere che libri ci sono in classifica, si mette le mani nei capelli e dice è meglio la gente che non legge niente o quella che legge quei libri lì? Quindi tra le disposizioni o la mancanza di disposizione naturale, la poca voglia di imparare, di studiare, e certo poi fare divulgazione, un po' come parlare nel deserto, infatti come si sa, poi alla fine si arriva poco lontano. Sì, 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 da questo punto di vista, perché questo è un argomento che abbiamo affrontato svariate volte qui su Dei Licogito, cioè il problema della disparità nella distribuzione dell'intelligenza, che è un fatto, tanti si offendono, ma in realtà è un fatto, bella gente, non c'è nulla di elitista in questo, è un fatto, però c'è un aspetto che mi piacerebbe porti come questione. Molto spesso, allora c'è il fatto, il fatto è, c'è una distribuzione diseguale nell'intelligenza e questo bisogna tenerlo presente. Dall'altra parte io trovo che alcuni utilizzino questo argomento per poter presupporre che l'interlocutore sia più stupido di te. Cioè questo è un po' il punto. Cioè, e io questa è una cosa che io rimarco sempre, perché uno dei motivi per cui la politica si è instupidita è che la politica ha trattato per 40 anni da stupidi gli elettori e trattando da stupidi gli elettori chi è poi che finisce per eleggere i rappresentanti? Gente stupida. E invece credo che sia molto più costruttivo avere un atteggiamento fiducioso. Cioè nel senso, io presuppongo che la persona con cui vado a discutere abbia un'intelligenza, abbia la capacità di ragionare. Mi viene in mente quel dialogo platonico che tu citi peraltro nel tuo libro sull'infinito in cui Socrate fa dimostrare il teorema di Pitagora ad uno schiavo dicendo una cosa fondamentale dicendo non importa l'istruzione non importa niente di quello che sai io ho fiducia nel fatto che tu hai una facoltà che ti permette di arrivare alle risposte almeno alle basi di conoscenza logica su cui puoi costruire qualcosa. Io trovo che questo elemento di fiducia nei confronti dell'altro sia venuto meno e credo che questo sia un danno. Questo è un buon atteggiamento ma anzitutto sul fatto di credere che gli altri siano quasi universali. Io ho scritto una volta un libro che si chiama Dizionario della stupidità e citando Umberto Eco anche se poi me l'hanno attribuita a me che invece non sono colpevole per le citazioni che faccio Eco aveva detto sì il 90% della gente è stupida e però se tu chiedi quando dici il 90% delle persone sono stupidi tutti sono d'accordo ora non si può essere tutti d'accordo perché 9 su 10 dovrebbero essere distribuiti in quel modo se tu dici 100% sono stupidi allora tutti si offendano ma se dici 90% o anche 95% tutti d'accordo dal punto di vista ovviamente si va poco lontano è una grande difesa questa cosa il fatto di essere però certo che quando parli con qualcuno se parli dall'alto della cattedra con un atteggiamento di sufficienza ovviamente il dialogo platonico non sono sicuro che sia il miglior esempio perché proprio quello che tu citavi cioè il menone è un dialogo completamente surrealista cioè lui prende questo schiavo e gli dice non è forse vero che le cose così e dice sì lui risponde malamente allora certo capisci che deve dire il contrario poi i dialoghi di Platone sono in genere sempre uno che parla e l'altro che dice sì o no sì sì o no o o no e sono dialoghi fittizi anche perché ovviamente era il periodo di passaggio in cui poi si sarebbe arrivati pre-Aristotele ai saggi senza più avere degli interlocutori quindi era forse l'ultimo periodo della letteratura in cui effettivamente si fingeva di avere questo dialogo però in generale lasciando il buono o cattivo di Platone è vero che quando si parla bisogna fare dialoghi perché altrimenti appunto si finisce di fare un monologo e la cosa è diversa e soprattutto se vuoi fare divulgazione anzi questo si sa molto nella scienza che credo che sia la stessa cosa anche nella filosofia la cultura che è vero che serve moltissimo leggere libri eccetera che poi tra l'altro sono anche quelli un dialogo con l'autore però è un dialogo a cui l'autore ha già risposto e non può più rispondere mentre invece parlare delle cose è una scorciatoia spesso si riesce a vedere quali sono le tue difficoltà ognuno di noi ha difficoltà diverse in un certo ragionamento e quindi essere interattivi che poi è un po' il motto della rete dei media di oggi da questo punto di vista è perfettamente sensato che poi significa appunto nel caso nostro quando si è due di fare un dialogo oppure un poliago come si dice quando il dialogo è a più di due trialogo o polialogo quadrialogo quadrialogo simposio di solito si dice simposio simposio bisogna essere portati per quelle cose se uno legge il simposio platonico a questo proposito io mi ricordo che quando lo lessi appunto da ragazzo era un po' poi tra l'altro non erano ancora tempi così aperti dal punto di vista sessuale che mi è rimasta più impressa di quel simposio è proprio quando Socrate dice vieni vieni al Cibiade mettiti sotto il mio mantello e adesso ci divertiamo e così via quello si presenta sempre come il dialogo dell'amore ma pochi sanno che è un amore che insomma non è condiviso da tutti non è condiviso da tutti beh sai lì c'è il discorso quando si dice l'amore platonico l'amore platonico non è mica quello che si intende altro che l'amore è proprio quello sì 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 senti qua ma venendo poi e spostandoci un po' nell'ambito del tuo libro una cosa che mi interessa molto è questa il concetto di infinito nell'immaginario comune è una cosa che è un concetto che è retaggio di un pensiero religioso spirituale almeno se uno ha l'educazione normale classica che viene data in Italia fondamentalmente si è convinti che quando si parla di infinito si parla di spirito di Dio di vita eterna di eternità come ne parla Severino insomma quindi mentre tu sei un matematico sei una persona molto con i piedi per terra e hai scritto un libro sull'infinito e devo dire che questa cosa è importante perché io credo che uno dei compiti della cultura contemporanea sia riappropriarsi in modo laico di concetti che sono stati fagocitati da un pensiero non laico e non so se questo sia parte di quello che è il tuo progetto che in realtà non è soltanto in questo libro è un progetto che porti avanti da un po' di tempo questa riappropriazione anche del concetto di infinito volevo dire volevo dire che hai citato prima Severino hai fatto prima di tutto bene a dire Severino parla come se fosse al presente perché lui naturalmente poiché non ha il divenire eterno e noi abbiamo fatto esattamente quello che dice Severino perché siamo entrati e usciti dal cerchio dell'apparire che sarebbe il video in questo caso e vabbè questa questa è da cineteca filosofica ottimo è certo però tornando invece appunto al concetto di infinito in realtà quello che ho cercato di fare nel mio libro è di far vedere che tutti naturalmente parlano dell'infinito però ciascuno ne parla a modo suo e ovviamente ci si capisce poco se io dico una parola intendendo una cosa e l'altro mi risponde usando la stessa parola ma intendendo un'altra ora quello che tu hai detto e quello che noi matematici ma più in generale anche i filosofi chiamano l'infinito assoluto cioè quando si parla di Dio quello è effettivamente infinito assoluto cioè sarebbe la totalità di tutte le cose magari anche la trascendenza e così via e quello è esattamente ciò di cui i matematici non parlano però c'è qualche cosa che sta tra infinito che è ciò che tutti noi conosciamo cioè il finito del mondo fisico per esempio o infinito dei numeri interi uno due tre eccetera o zero uno due tre eccetera e questo infinito assoluto tra questi due estremi cioè l'infinito assoluto da una parte e l'infinito dall'altra ci sta un sacco di roba che sono quelli che Cantor chiamava i transfiniti cioè cose che non sono finite sono oltre il finito ma non sono l'infinito assoluto perché l'infinito assoluto dal punto di vista matematico è contradditorio quindi è fuori del discorso che i matematici si permettono di avere ma la cosa interessante è che a questo punto però poi c'è qualche cosa di mezzo tra il finito e l'infinito assoluto ma non è soltanto qualcosa che è un terzo incluso diciamo così ma ce ne sono infiniti di questi infiniti quindi c'è diciamo così un mondo molto popolato su questi infiniti si possono fare le stesse operazioni che si fanno sui numeri interi si possono moltiplicare addizionare elevare a potenza e così via ci sono numeri addirittura che si chiamano numeri surreali con un tocco tra l'altro appunto letterario anche su cui si possono addirittura fare le divisioni le sottrazioni le estrazioni di radice eccetera quindi c'è veramente un grande una grande libertà che però è una libertà che è stata conquistata a caro prezzo da Cantor personalmente perché Cantor è impazzito poi letteralmente a fare questi studi è finito in manicomio e gli ultimi anni della sua vita li ha proprio passati lì ma in realtà solo nell'ultimo secolo praticamente o meglio un secolo e mezzo ormai perché era circa il 1870 forse 1872 quindi il prossimo anno saranno 150 anni appunto in cui Cantor scoprì che ci sono due infinite almeno e poi una volta che uno ne ha due poi può reiterare il processo che li ha portati a due e farne tanti altri e quindi adesso c'è tutta questa teoria che i matematici conoscono bene che in realtà volendo si può addirittura in parte far risarire ai pitagorici perché la scoperta degli irrazionali è proprio la scoperta dell'infinito tutto sommato cioè irrazionale per loro per esempio il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato o la diagonale e il lato del pentagono regolare e quello è un rapporto che è irrazionale non nel senso come lo intenderemo oggi cioè che non ha il ragionevole bensì e semplicemente non è frazionario non c'è un'unità di misura che sia in grado di descrivere di calcolare esattamente sia il lato del quadrato che la diagonale del quadrato non si può usare una frazione e se non puoi usare una frazione allora devi usare i numeri con la virgola come diremo oggi e devi usare infinite cifre dopo la virgola e anche per certi numeri razionali se vuoi usarli in maniera decimale hai bisogno di infinite cifre per esempio un terzo quello è 0,3333333 però si ripete sempre quindi è vero che ci sono infinite cifre ma ce n'è una sola che si ripete mentre nel caso di radice di 2 per esempio 1,4142 eccetera e lì la cosa è complicata perché non si ripetono non sono periodici e quindi l'infinito già c'era solo che i greci l'hanno rifiutato l'hanno ripudiato cioè la crisi del pitagorismo fu proprio quella di dire ah noi pensavamo che tutto si potesse descrivere attraverso i numeri tutto è numero o attraverso i rapporti di numeri abbiamo scoperto che ci sono rapporti che non sono descrivibili in quel modo per esempio appunto la diagonale e il lato del quadrato ma che cos'è il quadrato cos'è il lato cos'è la diagonale sono oggetti geometrici e allora quello che la matematica greca fece fu di abbandonare mettere da parte il pitagorismo dei numeri e fare geometria fino praticamente all'età moderna quindi loro avevano aperto la finestra diciamo così sull'infinito solo che poi l'hanno richiusa subito per terrore di cadere in contraddizioni questo è un elemento interessante a parte che mi fai venire in mente Hegel che citi anche tu nella scienza della logica quando inverte il rapporto fra il due settimi e il mi ricordo il numero a memoria sinceramente e invertendo dicendo che in realtà la cosa più il vero infinito è nel due settimi è infinito sì 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 è lui ma Hegel infatti Marx sapeva benissimo che Hegel bisognava prenderla e girarla a testa in giù girarla al contrario di quello che diceva e si ottenevano cose molto sensate che è una ottima cosa perché Gödel che è un po' il nostro nome tutelare dei logici più grande logico che sia esistito dopo Aristotele forse anche insieme a lui e un giorno lui era molto interessato alla filosofia anzi quasi tutta la sua vita l'ha passata a studiare filosofia e ha finito di fare matematica verso i 35 anni come spesso succede da giovane si fa e qualcuno gli chiese chi era il suo filosofo preferito e lui disse Leibniz e allora dice come mai dice ah perché Leibniz ha sbagliato tutto e uno dice ma cosa significa ha sbagliato tutto dice e beh dice certo a fare un po' giusto un po' sbagliato siamo capaci tutti in varie proporzioni a fare tutto giusto non è capace nessuno e allora la cosa migliore che si può fare è essere consistenti fare tutto sbagliato e l'unico che ci è riuscito era Leibniz povero 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 Leibniz però sì sì è bellissimo è bellissimo è vero in filosofia gli errori sono più importanti delle risposte giuste anche perché in filosofia risposte giuste sono state date molto poche mentre parlavi di Cantor mi è venuto in mente un aspetto e io credo sia legato al perché poi i greci rifiutarono quella finestra sull'infinito l'infinito molto spesso è una tragedia mi viene in mente un autore straordinario che è Friedrich Durremat non so se ti è mai capitato di leggere nulla autore della promessa romanzo incredibile insomma un vero genio i fisici per esempio esatto esatto e Durremat disse che in realtà la cosa peggiore che l'uomo può incontrare è proprio l'infinito perché in realtà quando tu entri in contatto con qualcosa di infinito l'unica cioè hai due strade o lo rigetti completamente oppure cadi nella follia e allora viene in mente Cantor appunto il rifiuto dei greci tu avendo scritto un libro sull'infinito ti sei avvicinato alla follia e che tipo di follia c'è dietro l'infinito perché questa è una cosa molto interessante secondo me beh tu sai che i matti sono le uniche persone che dicono io non sono matto esatto quindi questo è un segno quando uno comincia a dire non sono matto non sono matto però bisogna stare attenti perché noi abbiamo oggi dell'infinito una concezione positiva e questo quindi in qualche modo ci impedisce di capire come mai si potesse rifiutarlo e forse anche giusto magari rifiutarlo nell'antichità però se uno prende la parola etimologicamente l'infinito è un concetto negativo ora negativo vuol dire che è una negazione non finito però era negativo anche nell'interpretazione in maniera metaforica per esempio una delle accezioni a cui faccio riferimento nel mio libro c'è un intero capitolo su queste cose è l'incompiuto il fatto che infinito significa non finito nel senso che qualche cosa che doveva essere completato compiuto non è stato completato non è stato compiuto e noi oggi abbiamo questo strano atteggiamento nei confronti dell'incompiuto che è l'esatto contrario di quello che avevano gli antichi per gli antichi una cosa incompiuta era da buttare via l'hai lasciata a metà o non sei riuscito ad arrivare alla fine e così via questo è un segno negativo mentre invece noi abbiamo il fascino dell'incompiuto prendi per esempio la Pietà Rondanini per dire di Michelangelo o l'incompiuta di Schubert o l'essere il tempo se ti piace di Heidegger che è solo il primo volume di un'opera che doveva averne due tutte le cose che non sono finite sono meravigliose per molta gente compresi i filosofi anzi addirittura i filosofi hanno un fascino particolare per i frammenti ma poi è anche abbastanza chiaro perché perché se tu c'hai davanti un libro bello completato che ha detto tutto quello che voleva dire tu devi star zitto e semplicemente ripetere se invece tu hai un libro che non è stato finito lo puoi finire tu non parliamo se tu hai dei frammenti su cui ti puoi inventare tutto come hanno fatto per esempio con Parmeride compreso Heidegger ma non solo lui esatto e ovviamente da quelle tre parole che ci sono rimaste del povero Parmeride gli puoi far dire tutto quello che ti pare quindi noi oggi abbiamo capovolto la percezione che abbiamo dell'infinito da un concetto negativo è diventato un concetto positivo e neanche per questo che poi Cantor in qualche modo è figlio del suo tempo perché ha accettato positivamente l'infinito e ne ha dato una versione appunto positiva che si poteva usare gli artisti comunque continuano ad usare quell'altra accezione per esempio la cosa più interessante è che in Italia se tu dici l'infinito a qualcuno che magari non leggi molto la cosa che viene in mente la prima che viene in mente è Leopardi la sua poesia l'infinito però si legge lo Zibaldone di Leopardi se ha tempo da perdere naturalmente ho molto tempo davanti perché lo Zibaldone è un mattonone così però lui parla spesso dell'infinito oggi poi tra l'altro è facile perché basta se uno ne ha una versione digitale puoi cercare con il cerca parola semplicemente queste cose e trovi le citazioni giuste e lui dice l'infinito non esiste quando la gente dice o l'artista il letterato dice infinito vuol solo dire indefinito e allora è una cosa molto diversa se tu per infinito intendi qualche cosa che è non definito cioè vago fazzi lo si potrebbe dire oggi con una parola inglese che però ha preso un po' il sopravvento ormai in queste cose e quindi per esempio le pitture degli impressionisti perché ci piacciono così tanto perché non c'è niente di più indefinito che un quadro impressionista di cui non sai nemmeno che cosa c'è alla fine se tu guardi le ultime opere di Monet per esempio i suoi famosi fiori sul lago le ninfee e ti accorgi che agli inizi lui ci vedeva ancora tra l'altro che poi Monet Mare aveva la cataratta poi a un certo punto non vedeva veramente più e disegnava quello che non vedeva però man mano che si sfumano i contorni e le cose diventano più indefinite e c'è questo fascino l'intero movimento degli impressionisti è stata una ricerca diciamo così dell'indefinito da questo punto di vista cercare di disegnare i paesaggi o le persone o gli oggetti nella nebbia per esempio di notte quando non li si vede bene nel fumo degli incendi come faceva Turner con l'incendio del Parlamento di Westminster mi viene in mente anche tanta letteratura per esempio Lovecraft per esempio perché Lovecraft gioca questo fascino perché in realtà tutte le descrizioni che lui dà dei suoi incubi sono sfumate e c'è questa sensazione c'è questa sensazione che quando le cose sono indefinite in realtà noi abbiamo ancora la possibilità di dire l'ultima parola c'è una bellissima citazione di Foucault il quale disse noi scriviamo sempre per dire l'ultima parola ma per sperare di non dirla cioè noi effettivamente usiamo il linguaggio per dire come stanno le cose però poi al tempo stesso il linguaggio è ciò che non ci permette mai di dire del tutto come stanno le cose perché in realtà c'è sempre la separazione fra realtà e linguaggio logos e logos e da questo punto di vista mi viene sempre in mente sai io sono un grande amante perché il primo libro che ho amato nella mia vita dei viaggi di Gulliver di Jonathan Swift quando Gulliver va nell'isola dei cavalli e il padrone dei cavalli gli dice ma mi spieghi perché voi esseri umani usate il linguaggio per non dire le cose che è una cosa bellissima cioè le parole esistono per dire le cose come stanno molto filosofico questo molto pragmatico in realtà voi umani invece le usate per mentire avete gli avvocati i giudici i politici ed è molto divertente questo però in realtà è una condanna cioè mi verrebbe da dire che l'indefinito è un po' una condanna possiamo sfuggire a quell'indefinito secondo te? possiamo sicuramente sfuggire nel senso che e questo è quello che poi da Wittgenstein in avanti si è fatto cioè nel senso di accettare è che il linguaggio è limitato che non significa che non si può dire niente non si può dire tutto che è una cosa diversa e allora che cos'è che si può dire secondo Wittgenstein? soltanto le cose scientifiche e questo secondo me è uno dei motivi per cui poi la gente non ama molto la scienza e c'è questo atteggiamento siamo partiti dai terrapiattisti agli inizi e in effetti si ritorna lì in un certo senso come mai c'è questo atteggiamento antiscientifico? perché la scienza non ti dà libertà la scienza non è democratica non è che tu puoi mettere ai voti quello che si dice e vince cioè è vero quello che la maggioranza determina no è vero quello che è vero tu ti devi adattare in matematica devi accettare o capire le dimostrazioni nella scienza devi accettare o fare gli esperimenti no? e quindi quello è quello che si può dire quello che è definito è scientifico quello che non è definito come diceva Wittgenstein è una cosa più importante diceva lui ed è proprio quello che non si può dire e allora ecco che da questo punto di vista la scienza e l'umanesimo se vuoi o la filosofia perlomeno si distinguono proprio per questo fatto cioè che la scienza parla di cose che si possono dire in maniera precisa e che dunque non piacciono tanto perché non ti danno libertà e invece l'umanesimo la filosofia la letteratura l'arte e anche la religione perché poi appartengono a questo stesso ambito vorrebbero dire le cose che non si possono dire e continuano a cercare di dirle naturalmente si fa un gran parlare ma invece Wittgenstein lui che era più conseguente nell'ultima frase del trattato diceva su ciò di cui non si può parlare cioè dell'umanesimo bisogna tacere cioè si deve fare solo scienza eh sì dall'altra parte però poi Wittgenstein ci ha un po' ripensato su questo perché è stato zitto un po' ma poi esatto io ho capito tu sei un primo Wittgensteiniano quindi no no io cito quello dei Wittgenstein che mi serve nel momento giusto giusto mi sembra un atteggiamento molto furbo questo molto furbo in effetti c'è anche una bella citazione che mi sono segnato proprio dal trattato di Wittgenstein quando dice se per l'eternità si intende non infinita durata nel tempo ma a temporalità vive eterno colui che vive nel presente e questa citazione mi piace perché a me viene in mente ciò che Nietzsche scrive nella Gaia Scienza quando parla dell'eterno ritorno perché in fin dei conti quello che Nietzsche intuisce o immagina o inventa quando si immagina questa cosa strana dell'eterno ritorno è proprio quella a temporalità e lì c'è un confine che vorrei sottoporti perché io l'ho trovato sempre problematico perché io mi sento spaccato fra la considerazione di Wittgenstein quindi insomma devi tacere su quello che non sai e questa spinta dell'essere umano che è una creatura scema diciamocelo noi siamo creature sceme che deve comunque disquisire di cose di cui non può fare esperienza che non sa e noi non riusciamo a toglierci questa cosa di dosso e quando Nietzsche parla dell'eterno ritorno fa esattamente questo però esprimendo un concetto che ha a che fare con un ragionamento perché lui arriva all'intuizione dell'eterno ritorno non semplicemente perché a un certo punto ha un sogno o una visione se lo inventa lui ragiona e dice ma sentite qua se viviamo in un tempo infinito e la materia disponibile quindi gli atomi sono finiti significa che le combinazioni sono eternamente ritornate e questo è un discorso logico lui arriva a una conclusione che però è etica è una conclusione morale lui dice perciò l'unica cosa che io posso fare è desiderare questo mio istante perché questo istante è un'eternità ora in questo ragionamento io ho sempre trovato grande fascino perché c'è il connubio fra qualcosa di assolutamente fideistico cioè l'eterno ritorno ha un lato spirituale assolutamente fortissimo una constatazione morale e poi anche un ragionamento intorno a qualcosa che potrebbe essere logicamente diciamo così perseguibile quindi la totalità degli atomi e l'infinito del tempo l'essere umano è in quel limite lì e io credo che nel tuo libro tu l'abbia detto perfettamente noi siamo in quel confine e non riusciamo a toglierci e per quanto razionalmente decidiamo di stare di là o di qua poi alla fine ci ricadiamo sempre nell'aldilà in quel senso in quel senso lì ma in realtà in realtà l'eterno ritorno non è poi un'idea così nuova perché già in Platone c'era poi non ne parliamo nella filosofia orientale dove ci sono questi cicli cosmici dove Vishnu per esempio sogna il mondo e le ere cosmiche sono semplicemente il momento in cui lui sta sognando e poi quando si sveglia il mondo finisce e poi a un certo punto lui ritorna di nuovo a dormire quando ha fatto quello che doveva e ricomincia una nuova era tra l'altro Nietzsche è interessante che quando arrivò la teoria dell'eterno ritorno ci arrivò esattamente nel modo che hai detto tu con un calcolo combinatorio però studiò per vari anni credo quasi 5 anni la fisica del suo tempo che era tra l'altro una fisica appunto legata al finito perché poi questo è necessario se il mondo se gli atomi sono infiniti allora anche se il tempo è infinito le combinazioni potrebbero non ripetersi mai mentre invece se c'è un tempo infinito ma soltanto un numero finito di atomi quando tutte le combinazioni si sono prodotte a un certo punto una deve ritornare questo anzitutto però attenzione perché non significa che nel momento in cui si ripete qualcosa che è già successo quello che segue poi deve seguire nello stesso modo perché a meno che il mondo non sia oltre che appunto ripetente sia anche completamente deterministico allora sì se c'è qualche cosa che si ripete e da quello può discendere soltanto quello che era già disceso in precedenza allora ci sono semplicemente dei cicli ma di per sé il ragionamento combinatorio dice solo ad un certo punto quello che adesso in questo momento sta succedendo prima o poi ritornerà però quello che succede l'istante dopo potrebbe essere diverso quindi non è detto che la vita continua esattamente nello stesso modo e oggi queste cose tra l'altro fanno parte perfettamente della fisica e si chiama l'esistenza dell'eterno ritorno si chiama il teorema ergodico e si dimostra nello stesso modo cioè appunto avendo un tempo infinito e combinazioni finite prima o poi si devono ripetere queste cose tutto questo tu parli però della morale la morale è quella della lascia a voi no? le cose che non si devono dire e non si possono dire no? però è interessante che perlomeno anche da questa parte come dicevo dalla parte scientifica cioè tutto questo ragionamento funzioni perfettamente e Nietzsche tra l'altro appunto nemmeno se l'era inventato ma in realtà l'aveva attinto proprio dalla scienza e poi certo se ci vuoi mettere l'atteggiamento cioè cercare di derivarne delle conseguenze etiche o morali e allora quello non saprei come rispondere anche perché bella questo bella seguo seguo il primo e non il secondo eh sai questa sera qui è ora qui è ora qui è ora alla prossima volta la prossima volta quando ritorna non è detto che faccio qualcosa bella questa bella no questo è interessante perché sai io sono un grande amante di Spinoza per me l'atteggiamento di Spinoza nell'etica di dire dal momento che il mondo è fatto in un certo modo anche l'etica poi è una conseguenza di cose che si manifestano nella materia per me è una cosa meravigliosa e molto ispirante certo da un certo punto di vista è rifiutatissima e lui insomma venne pesantemente scomunicato anche perché quella è una visione molto complicata prego prego se devi dire qualcosa visto che stai prendendo non solo scomunicato ma anche calpestato perché poi il Jerem fu proprio quello lui non ci andò per fortuna ma altrimenti l'avrebbero proprio calpestato sulla porta della sinagoga passandogli sopra con i piedi il povero Spinoza però in quel libro lì ha fatto un completo buco nell'acqua perché lui ha cercato di imitare i matematici giustamente anche perché erano i tempi del razionalismo che Cartesio aveva scritto il discorso sul metodo e sappiamo qual era il metodo il metodo era la geometria perché molti si dimenticano di questo nella filosofia cioè leggono il discorso sul metodo come se fosse un libro autonomo mentre invece in realtà era l'introduzione ad un libro con tre capitoli uno dei quali era il famoso capitolo sulla geometria in cui Cartesio introdusse la geometria cartesiana e lui diceva la geometria la filosofia dovrebbe fare esattamente come fa la matematica l'altro era sulla fisica uno degli altri capitoli come fa la scienza diciamo così e usare lo stesso tipo di metodo appunto e Spinoza cercò di farlo però quell'impianto non sta in piedi non c'è una dimostrazione dell'etica dimostrata in maniera geometrica anche perché lui l'impianto è quello ma è un'invenzione letteraria quella non fa esattamente quello che faceva Euclide far discendere effettivamente dagli assiomi anche perché quegli assiomi lì sai sono cose ovviamente di tipo filosofico che non si prestano a quell'ambiente però è molto interessante tra l'altro io devo dire la verità che di Spinoza preferisco molto perché prima è più comprensibile secondo è più sensato il trattato teologico politico quello è una cosa meravigliosa non fosse altro che perché è il momento in cui la religione viene messa in discussione veramente lui fa l'analisi critica del del Deuteronomio o meglio dei primi cinque capitoli della Bibbia ebraica del Pentateuco l'ultimo del Deuteronomio si diceva all'epoca che quei cinque capitoli li ha ressi scritti Mosè ed è quasi disarmante l'osservazione che fa Spinoza di dire come può aver scritto questi capitoli Mosè se alla fine del Deuteronomio c'è la descrizione del suo funerale e uno può dire vabbè ho capito l'ultima parte è stata aggiunta dice allora se non le ha scritte tutti lui qui si mette diciamo così il cuneo dentro e la cosa può scardinare effettivamente l'intero libro ma la cosa più interessante secondo me del trattato appunto teologico politico è che in realtà per la prima volta visto che abbiamo parlato di Wittgenstein del secondo Wittgenstein tra l'altro è lì che per la prima volta si dice che il significato di una parola sta nel suo uso io quando l'ho letto avendo avuto il vantaggio di non aver studiato filosofia e quindi non avere idee preconcette soprattutto di leggere da adulto certe opere avevo letto prima Wittgenstein e quando ho letto Spinoza dopo ho detto oh ma questo lo conosco questo è il secondo Wittgenstein cioè l'idea che il significato delle parole sta nell'uso era già ma proprio scritto con queste parole tra l'altro ed è molto interessante quindi io credo sì che quello sia un libro migliore più argomentato più più strutturato mentre l'altro è quasi un libro di poesia che d'altra parte poi prego sì no guarda il trattato è il testo più importante di quel secolo per quanto mi riguarda per tutto il discorso sulla superstizione perché è la prima volta in cui si introduce una vera antropologia cioè nel senso il ragionamento che Spinoza fa inerente il rapporto fra i profeti gli autori e il testo sacro è il primo la prima la prima idea letteralmente di antropologia come poi viene concepita secoli successivi io l'etica cosa vuoi io l'etica l'amo proprio in virtù dell'impossibile missione che si è dato cioè io da questo punto di vista sono io sono un amante dell'indefinito sono un amante di quel romanticismo devo ammetterlo quella spinta in cui Spinoza già di per sé sono convinto sapeva di non poter arrivare all'obiettivo finale e però ci si è lanciato lo stesso per anni e anni è un libro di un'ispirazione incredibile completamente sbagliato e io sono d'accordo col discorso prima riguardante Leibniz io amo Spinoza perché ha sbagliato un sacco di roba è bellissimo quindi abbiamo capito stasera che insomma la corsa che fanno i filosofi ha chi sbaglia di più ma non c'è alcun dubbio non c'è alcun dubbio ma poi ti aggiungo una cosa i filosofi vengono ricordati sulla base delle critiche che si fanno i filosofi se un filosofo ha detto cose ragionevoli e tranquille senza viene dimenticato cioè non c'è nulla a fare il motivo per cui Hegel è stato il filosofo più influente degli ultimi 200 anni è proprio legato al fatto che ha detto un sacco di panzane le ha dette bene mettiamola così le ha dette bene e però dicendole ha spinto una montagna di gente a dire eh no le cose non stanno così da questo punto di vista credo che la filosofia abbia un valore negativo e questo la rende molto diversa dalla scienza perché anche la scienza procede per errori ma la scienza non ricerca l'errore anche per errori ovviamente poi fa un sacco di cose giuste però alle cose giuste ci si arriva perché poi si fanno ipotesi che non vengono verificate ipotesi tanti scienziati insomma fra le cose giuste che hanno detto poi hanno detto tante anche cose sbagliate però la filosofia invece vive in virtù delle critiche che le si fa e questa è una cosa che mi ha sempre affascinato molto e nell'infinito insomma da questo punto di vista ce n'è un sacco da dire ascolta qua c'è un'ultima citazione che io ho preso su cui mi piacerebbe concludere visto che tu citi ovviamente un altro mio amatissimo autore che è Borges a un certo punto tu citi dall'immortale l'immortalità è un altro tipo di infinito ovviamente non esistono meriti morali o intellettuali Omero compose l'odissea dato un tempo infinito con infinite circostanze e infiniti mutamenti è impossibile non comporre almeno una volta l'odissea che poi divenne quella parodia in cui non mi ricordo quale autore disse è sicuro che con queste premesse una scimmia un giorno scriverà l'Iliade o la Divina Commedia e questo però porta con sé un problema che allora ti sottopongo per concludere un po' questa chiacchierata significa che veramente noi siamo marionette in mano alle combinazioni dell'universo e che quella che noi riteniamo come volontà come l'intenzionalità dell'autore in realtà è una storia che ci raccontiamo tu com'è che la vedi questa cosa? ma sai è un po' la stessa cosa in politica quando uno dice ah quello ci aveva visto lontano perché aveva previsto quello che sarebbe successo per esempio Lenin nel 17 e ha seguito esattamente le strade che l'avrebbero portata dal potere in realtà in realtà se uno guarda la storia russa ad esempio si accorge che c'era gente di tutti i generi c'erano partiti politici di un vastissimo spettro ciascuno diceva le sue cose e certo poi qualcuno aveva ragione ma questo non si può sapere soltanto alla fine quindi non è che ci fosse una preveggenza da parte loro c'era semplicemente il fatto che qualcuno deve vincere effettivamente col senno di poi uno dice ah l'aveva previsto e quello che chiedi tu è la stessa cosa cioè in realtà ciascuno di noi dice le cose che gli vengono in mente e se c'è sufficiente gente e si dicono sufficienti cose prima o poi qualcuno la c'entra tra l'altro la cosa divertente è che in politica ma non solo quando si tratta di opinioni se uno dice le cose a caso il 50% della volta c'entra quindi in realtà è la stessa cosa che si ritorna all'hybris è facile dire ogni tanto cose giuste se tu parli a caso è semplicemente una questione di probabilità che ogni tanto dici le cose per bene su questo giocano i maghi quando fanno gli oroscopi per esempio alla fine dell'anno e di dire che quello succederà al prossimo anno ci sarà una guerra non ci sarà una guerra ah beh certo ho uno dei due ragione l'hanno sbagliata il 2020 l'hanno cannato quasi tutti però bisogna bisogna ammettere che il 2020 sono veramente pochi quelli che l'hanno anche perché poi poi le previsioni sono sempre molto molto vaghe certo che se uno dice arriverà il covid-19 quello diventa una cosa invece nella scienza ci sono queste cose per esempio ci sono stati pianeti urano per esempio è stato scoperto in questo modo perché si guardava al moto dei pianeti dell'epoca si vedeva che c'erano delle perturbazioni che non funzionavano e qualcuno pensò di dire ma forse non è che sia sbagliata la legge newtoniana è che c'è qualche cosa che produce queste perturbazioni se ci fosse dovrebbe essere lì uno va a vedere e tac lo trova e queste sono le cose meravigliose anzi la scienza su questo si basa cioè uno può costruire le teorie più belle che vuole ma se poi non fa delle previsioni e queste previsioni non si avverano nel modo preciso tra l'altro e non quello dei pastorelli di Fatima o di Lourdes che fanno sempre queste previsioni la guerra finirà che ha scoperte qual è la guerra che non è finita prima o poi o ce ne sarà un'altra dopo e così via e la scienza non fa così e le previsioni della scienza sono per l'appunto cose che poi vengono testate con molti decimali non infiniti perché questa è la nostra condizione ma a volte la meccanica quantistica ad esempio ormai è andata talmente oltre quello che si proponeva di poter descrivere che infatti molti pensano che sia forse la teoria più precisa e più perfetta che sia mai stata fatta perché tutte le teorie prima o poi cascano e cominciano a dire ah no bisogna in qualche modo rimodernarle aggiornarle eccetera invece quella per ora continua ad andare avanti con molti decimali perché anche ai tempi di Newton si diceva che la teoria di Newton ragazzi è incomparabile assolutamente poi in realtà è stata superata tu dici che la meccanica quantistica ha un aspetto secondo te che la rende più precisa in assoluto oppure in realtà potrebbe sfuggirci una parte no sicuramente ci sfugge perché sappiamo che una parte della realtà non è descritta dalla meccanica quantistica cioè la gravità e quello è viceversa una parte della realtà non è descritta dalla gravità cioè le parti che hanno a che fare appunto con i quanti e questo è il grande problema della scienza moderna riuscire a mettere insieme due teorie che sono così diverse e che quindi non stanno insieme proprio perché sono costruite in una maniera diversa per esempio la gravitazione è una teoria deterministica e la meccanica quantistica nel suo complesso non è deterministica lo è fin quando l'onda si muove diciamo così ma poi quando collassa quando si fa l'esperimento lì interviene la probabilità quindi già solo il fatto di descriverle attraverso due modi diversi uno la meccanica classica la matematica classica l'altro invece la matematica probabilistica e statistica sono due cose completamente diverse e i tentativi che si fanno di metterle insieme sono quelli che per un secolo Einstein ci ha provato fino a che è morto lui ha fatto la relatività generale nel 15 1915 è morto nel 55 e quei 40 anni li ha passati a cercare di trovare una teoria unificata nemmeno con tutta la meccanica quantistica ma perlomeno con l'elettromagnetismo e non c'è verso per ora è passato un secolo e più anzi ormai siamo ancora lì quindi probabilmente prima o poi qualcosa succederà a meno che sai perché poi non è mica detto che tutto ciò che si può scoprire sarà scoperto anzi il teorema di Gödel in fondo dice proprio quello che ci sono verità indimostrabili cioè ci sono cose che non tutto si può dimostrare quindi su questo vivono i mafiosi sono contenti per fortuna che non c'è la prova guarda stavo per farti una domanda legata a quanto questo poi è ricadute sul comportamento umano ma tu mi hai anticipato con questo discorso della mafia ci gioca però scherzi a parte questo è molto interessante allora veramente l'ultima domanda ti faccio questa possibilità della scienza di prevedere attraverso magari una teoria unificata un giorno o comunque con una precisione sempre più puntuale riuscirà secondo te a calappiare anche l'aspetto che continua a sfuggirci esattamente in quel modo lì cioè quello del comportamento umano perché a me viene in mente mi viene in mente Asimov quando Asimov nei suoi romanzi nel ciclo della fondazione parla della psicostoria e lui costruisce tutta questa scienza in cui attraverso la conoscenza della fisica e della probabilità noi riusciamo a prevedere i comportamenti di popoli nei millenni poi però ci sono delle variabili che sfuggono e mandano all'aria tutta quanta tutta quanta la previsione quindi Asimov ti direbbe no non ci riusciremmo secondo Di Freddi invece? No secondo me non avrebbe nessun interesse ma quello che è già successo è che effettivamente l'etica ormai è diventata parte della scienza siamo ancora agli inizi però ci sono già stati almeno una dozzina di premi Nobel dati a quella che purtroppo si chiama teoria dei giochi e quindi uno pensa che serva per giocare a carta per giocare a scacchi e quindi non ci fa tanto caso ma che in realtà è una teoria razionale del comportamento e il primo che prese il premio Nobel in quello è ovviamente John Nash che tutti conoscono quello del film Beautiful Mind ma come ho detto una dozzina ormai sono stati già dati poi ci sono tutte le ricerche che si fanno sull'intelligenza artificiale per esempio ormai i computer altro che prevedere questi battono i campioni non soltanto di scacchi ma ormai già da qualche anno anche quelli di Go che è un gioco ancora più complicato ormai ci sono i computer come AlphaZero che apprendono per conto proprio uno gli dice queste sono le regole per giocare lui comincia a giocare con se stesso e alla fine poi AlphaGo è una cosa straordinaria se andate a vedere è un programma che è stato costruito e quando appunto gli hanno dato le regole in quattro ore quattro ore del nostro tempo è arrivato a un livello di autosviluppo e ha cominciato subito a battere i programmi che sono campioni del mondo Stockfish per esempio erano i programmi di vecchio stampo quelli che avevano questi grandi banche dati di partite di apertura di chiusura eccetera le ha battuti dopo quattro ore quindi tu immagina che può succedere questo anzi per lasciarci poi magari ci sono domande del pubblico ma per lasciarci con un tocco di inquietudine Bill Gates e Musk Elon Musk che sono due tecnocrati forse i due più avanzati che ci sono al mondo loro sostengono e sono impegnati soprattutto Bill Gates per esempio nel problema climatico ma loro dicono il rischio è che il problema che l'umanità più grave più impellente che l'umanità debba affrontare non è tanto quello climatico che potrebbe appunto diventare secondario di fronte a quello dell'intelligenza artificiale perché le macchine ormai appunto come dico sono già arrivate a fare molto meglio di noi un sacco di cose ora uno se ne frega se uno gioca a scacchi o a go meglio però sappiamo benissimo che vengono usate per motivi molto diversi e quando le macchine dovessero cominciare a seguire i programmi che uno si scrive e però anzitutto si sa che è impossibile riuscire a determinare se un programma che è stato scritto fa tutte e sole le cose che uno voleva fargli fare il problema cosiddetto della verifica dei programmi e poiché non si può fare questo è dimostrabilmente così non è che uno non sa farlo però spera che un giorno si potrà fare è impossibile farlo in generale e i programmi faranno sempre cose che non sono stati programmati direttamente per fare ma che però il programma gli permette di fare e allora a un certo punto il rischio è che l'umanità diventi semplicemente qualche cosa di secondario che le macchine prendano il sopravvento sembrano cose un po' fantascientifiche da un certo punto di vista lo sono però quando cominciano a metterci in guardia gente come Gates e Musk insomma io starei attento guarda da questo punto di vista sicuramente questa è una preoccupazione importante credo che il più grande pericolo però che corriamo sia che grazie a questi meccanismi di machine learning quindi questi meccanismi che riescono a elaborare quantità inverosimili di dati arriveremo come c'è uno scrittore contemporaneo che è Ted Chung che ci ha scritto un racconto arriveremo ad avere una parte di scienza elaborata ormai soltanto da super computer che riuscirà a risolvere e anche a porsi problemi che noi non riusciamo neanche a comprendere quindi in realtà ci ha scritto questo raccontino breve in cui tu hai una scienza fatta delle macchine che riesce a comprendere cose che noi neanche ci siamo mai posti come problema e a noi arrivano soltanto le briciole quindi a noi arriverà soltanto la divulgazione e quindi la semplificazione e Chung dice avremo un futuro non più di scienziati ma di macchine e di divulgatori e quindi gli scienziati avranno soltanto il lavoro di tradurre in termini comprensibili anche per i più intelligenti le cose che il nostro cervello non riesce neanche ad abbrancare questa è un po' la previsione di Chung beh ma lì ci siamo già perché ormai ci sono dei teoremi ormai parecchi non soltanto più uno che nessun matematico ha mai visto per esempio il famoso teorema dei quattro colori che di per sé ha poca importanza cioè quanti colori sono necessari e sufficienti per colorare una mappa geografica senza fare confusione cioè usando due colori per stati confinanti e questo è stato risolto negli anni 70 ormai sono passati quasi 50 anni usando i computer per un tempo macchina che era all'epoca pari a 2000 ore di tempo macchina e non c'è nessuno che ha mai visto una dimostrazione completa ci sono risultati tipo la classificazione dei gruppi finiti semplici e di nuovo che sono state sono decine di migliaia di pagine fatte da un centinaio di persone in questo caso le macchine hanno aiutato ma fino a un certo punto il problema è che sono tante persone ciascuna delle quali ha fatto dei pezzi però nessuno conosce esattamente l'intera dimostrazione con la sua testa e queste sono cose preoccupanti naturalmente c'è un bellissimo racconto di fantascienza che è analogo a quello che citavi tu che è di Stanislav Lem che si intitola Golem 14 questa è una macchina della quattordicesima generazione all'epoca si pensava della quinta generazione del giapponese e questo è un computer che ad un certo punto annuncia e il discorso finale che questo computer fa all'umanità dicendo che l'ultima volta che lo sentiranno parlare perché gli uomini continuano a fare domande cretine lui altro vedi lo fare ormai deve pensare alle sue cose e quindi smetterà le cose ed è bellissimo perché tra l'altro Stanislav Lem per coloro che seguono questo tuo podcast e quindi avranno un interesse per la filosofia era un autore estremamente filosofico e in particolare quel raccontino lì che poi non è nemmeno ino perché in realtà è una quarantina di pagine ma mentre ci sono volevo citare questo libro che si chiama Superintelligenza che forse qualcuno di voi conoscerà che è quello che dicevo prima consigliato da Musk e da Gates si chiama Superintelligenza ed è di un filosofo che si chiama Bostrom è un tomone un po' così però si interessa proprio di queste problematiche fa agli inizi una breve storia di un centinaio di pagine che essendo un tomone breve vuol dire quello di quello che è stata l'intelligenza artificiale e poi si preoccupa di quali sono le prospettive sul lavoro per esempio su cosa gli uomini potranno fare in un mondo in cui le macchine fanno tutti i lavori e quindi per esempio oggi si parla di reddito di cittadinanza ma quella sarà poi la fine che dovremmo fare se effettivamente tutti vogliamo sopravvivere in un mondo in cui il lavoro non lo facciamo più noi e soprattutto il problema vero è questo qua di che cosa le macchine e i programmi potrebbero fare e soprattutto se potrebbero o potranno fare cose che poi siano dannose per l'uomo alla fine esatto e lì ritorna Asimov con le sue leggi della robotica oppure ci troveremo di fronte a un super computer che risponderà 42 a ogni nostra domanda insomma perché anche quello poi è 42 e così state zitti vabbè forse è quello il nostro destino guarda Pier Giorgio alla fine siamo finiti a parlare di cose fra le più disparate ma era insomma quello che vi aspettavo e spero che sia stato divertente per te quanto è stato per me ovviamente chi sta ascoltando in live adesso non esca perché dedichiamo qualche minuto a rispondere a delle domande sicuramente ce ne sono tante se siete invece indifferita in descrizione trovate sia nel podcast che nel video su youtube il link al libro ritratti dell'infinito di Pier Giorgio Di Freddi che mi ha divertito molto devo dire io poi ho fatto un sacco di citazioni di autori che amo quindi Borges Wittgenstein e tanti altri quindi leggetevelo no possiamo dire se siete indifferita fate pure domande ma non aspettatevi una risposta una risposta esatto 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 magari magari alla prossima tornata cioè alla prossima tornata al prossimo ritorno di questa combinazione venite in live la prossima volta Pier Giorgio grazie mille veramente per la chiacchierata è stato un grande grande piacere e allora io ti faccio rientrare fra pochissimo quindi adesso concludiamo il podcast ricordandovi di condividere Daily Cogito far conoscere questa rubrica a quante più persone possibile noi ci rivediamo domani come sempre e non dimenticate mi raccomando non dimenticatevelo mai che non è tutto noia ciò che pensa alla prossima questo è il tuo motto esatto 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 いきます ignora è l' west è l'unico